Il maltempo di questi giorni, che si è abbattuto su gran parte del territorio provinciale, ha fatto riemergere nella mente di molti la tragedia dell'alluvione che ha colpito il 15 settembre scorso diversi comuni del Pesarese e dell'Anconetano. Poco più di quattro mesi fa lo straripamento del Misa Senigallia e del Burano a Cantiano. Ora il fiume Foglia è invece potuto godere di una rete idrica ben più pronta ad un'eventuale tempesta d'acqua, come quella piombata tra venerdì scorso e questo lunedì. Allora, noi abbiamo visto in questi giorni, nonostante la drammaticità degli eventi, la tenuta, diciamo così, tutto sommato, tranne piccoli casi particolari, della nostra rete idrica. La tenuta, nel senso che lavori che sono stati portati avanti in passato, ma anche dopo il 15 settembre, hanno, diciamo così, dato un contributo forte affinché non succedessero casi di particolare gravità. Ecco, noi dobbiamo sempre avere l'allerta alta e la predisposizione ad operare in questo senso. Stiamo lavorando molto, noi dopo il 15 settembre, ovviamente anche prima sono state fatte tantissime cose, dopo io riporto quanto ho fatto, dopo il 15 settembre solo come genio civile regione e marca, quindi i nostri diretti lavori, non quelli dei privati, del consorzio di bonifico, dei comuni o delle province, ma i nostri sono stati pari a 6 milioni e 400 mila euro di lavori di sommorgenza, portando anche i ricorsi d'acqua della regione Marche, particolarmente nelle zone più toccate, quelle del Misa, del Senigallese e dell'entroterra pesarese. Ed abbiamo visto che anche nonostante la grandissima pioggia l'altro giorno hanno retto, con qualche difficoltà, ma hanno retto. Stiamo lavorando molto su questo, su Senigallia in particolar modo, stiamo portando avanti invece anche delle casse di espansione, finalmente sono partite, i lavori saranno conclusi entro quest'anno e quelle metteranno ancora di più in sicurezza quanto, diciamo così, potrà succedere anche in futuro. Queste casse di espansione sono previste anche qui alla chiusura di Genestreto, in questo caso però non è direttamente la regione che esegue il primo stralcio, ma è il Comune di Pesaro. Una serie di interventi derivati da enormi risorse messe in campo da Regione Comuni per cercare di evitare che gli eventi catastrofici del 15 settembre possano nuovamente presentarsi. Focalizzandosi su quella circostanza in cui persero la vita 12 persone e una donna mai più ritrovata, l'assessore Aguzzi ammette l'incolpevolezza dei passi fatti dall'amministrazione regionale nella prevenzione a quegli episodi. Non c'è stato da parte della Regione Marche, tantomeno sottoscritto, e sono state dette molte cose fuori luogo, spesso anche non vere, né ritardi né situazioni di questo genere, quella davvero è stata una cosa non solo imprevedibile, ma ingestibile nella sua immediatezza per come è avvenuta.